Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Per chi non mi conosce, io sono Davide Menon. Faccio video che riguardano l'abbigliamento, la moda, la musica. E vado in giro per eventi e città a documentare la fashion culture. Ultimamente vi ho parlato del dining giapponese, vi ho parlato del peeling. Siamo andati anche al Pitti a Gennaio. Oggi ragazzi faremo uno dei tanti unboxing. Però oggi c'è un unboxing molto molto valido. L'ultimo è stato quello di Mason Margiela in collaborazione con Padrenton. Se non avete visto il video ve lo metto qui sopra. Perché ne vale la pena, pezzo della Madonna. E qui ragazzi abbiamo un altro pezzo della Madonna. Questa volta di uno dei miei brand preferiti. Che chi mi segue sa già qual è. Quindi ragazzi, sigla! Non l'ho ancora visto dal vivo, l'ho presi online vedendoli. E vediamo ora com'è questo prodotto dal vivo facendo l'unboxing insieme. Coltellino da unboxing. Ah ragazzi, dopo faremo anche un fit check. Akne Studios ragazzi. Uno dei miei brand preferiti. Se non il mio preferito. Eccolo qui. L'etichetta di reso. Ho comprato direttamente dal sito. Lo andiamo ad aprire ragazzi. La classica busta. Questa rosa Akne Studios. Mi piace troppo il logo, il mio brand. Questo rosino. Rosa salmone. Eccoli qui. Questi super jeans di Akne Studios. Akne Studios 1981 jeans. Eccoli qui. Pensavo che i dirty jeans fossero stati uno dei migliori pezzi. Ho fatto l'unboxing, ve lo metto qua. Ma poi sono usciti questi. E io ne ho approfittato per prenderli. Ragazzi, sono pazzeschi. Adesso vi faccio vedere qualche dettaglio. Ragazzi, si può dire che questo jeans è stampato ed è tutto fake. Perché la maggior parte delle cose che vedete sono stampate. Ad esempio, vedete qua? I bottoni qua sono stampati. Qui ci sono quelli veri. Vedete, questi qua sono stampati. Oltre a quello abbiamo stampato anche qui. Questa qui è una stampa. Non è il cuoio cucito del logo. Idem qui. Le tasche qui sono stampate. Qui c'è la tasca vera e qui c'è quella stampata. Oltre a tutto questo effetto è imbiancato. Ragazzi, questo effetto si chiama, del finto, si chiama troplo ale. O in inglese full the eye. Praticamente si intende per questo la rappresentazione di un oggetto con tale verosimiglianza da ingannare lo spettatore. Riguardo appunto alla realtà materiale dell'oggetto stesso. E ragazzi, in effetti qua abbiamo un pantalone. Guardate anche qua, la cucitura qui. Anche questa è stampata, però sembra veramente vera. Invece è semplicemente stampata. Aclis Studios mi sorprende sempre di più. C'è anche un passante della cintura stampato. Vedete? Questo qui. Io ragazzi ho preso una 52 che è una delle tagli più grandi. Vi metto in descrizione del prodotto così potete cercarlo. Secondo me hanno fatto pochi pezzi, tra poco andrà sold out ovunque. Ma anche proprio i pantaloni da impianchino. E ragazzi, adesso facciamo un fit check con questo super pantalone che per me spacca troppo di Acne Studios. Prima però andiamo a vedere anche l'etichetta. Qui. Acne Studios. Fatto in Italia, ragazzi. 100% cotone. Acne Studios ha una filiera di aziende produttrici di pantaloni in Italia. Infatti i jeans e i pantaloni sono di una qualità estrema appunto. Ma in Italy io lo supporto sempre. Guardate anche qua il bottone. Qui. Anche qui stampato. Incredibile. In primis ci mettiamo questa t-shirt bianca di Uniqlo U. Questa qui. Proprio basic bianca. La andiamo a mettere. Eccola qui. Ragazzi, sotto appunto mettiamo il nostro pantalone, il nostro nuovo acquisto di Acne Studios. Il mio 1981 jeans. Ma prima ragazzi vi chiedo un favore. Cioè di iscrivervi al mio canale se vi piace questo tipo di contenuti per supportarmi. Perché ragazzi siamo quasi a mille. A mille ci sarà anche una sorpresa, un mio regalo. Quindi iscrivetevi. Vi spiego anche come funzionerà tutto. Vediamo il pantalone di Acne Studios. Ragazzi ecco qua il super pantalone di Acne. Veramente bellissimo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo pantalone. Veramente spacca. Per me è veramente bellissimo. Com'è? Mi piace? Mi piace veramente tanto. Ragazzi, sopra mettiamo un giubbotto di pelle. Chiodo di pelle. Questo qua, di All Saints. Secondo me spacca di brutto. Giubbotto di pelle. Veramente valido. Questo qui di All Saints. Poi ragazzi tra il prossimo aprile e periodi di giubbotto di pelle vi farò un video nello specifico a riguardo. Quindi state collegati, iscrivetevi. Eccolo qui, è un giubbotto di pelle. Possiamo anche usare con una cintura di Our Legacy. Questa qui. Ma ragazzi, non ho delle cose più importanti. Sotto, sotto ragazzi, andiamo a mettere i miei camion boots di Our Legacy. Che ragazzi, in questo modo, mi stanno di brutto. Uno. Comunque ragazzi, questi pantaloni, a parte tutto, sono stra comodi. stra leggeri, si vede proprio la manifattura e la qualità. Costano tanto, costano 590 euro. Però ragazzi, spacca di brutto. Questo ragazzi è il mio outfit per uscire stasera. Che andrò a far serata in un locale. Cosa ne pensate? Per me, questo outfit spacca di brutto. Se piace anche a voi, o se volete dire la vostra, confrontiamoci nei commenti. Ci vedo anche un po' più da vicino. Super, super, super outfit. Ultimo tocco, oltre alle collane, i miei anelli di The Great Frog. Ce li ho qui. Andiamo a mettere. Eccoli qui ragazzi. Ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete like, pollice in su. Iscrivetevi al canale per non perdere questo tipo di contenuti. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!